il diavolo e l'acqua santa ed in questo caso il paragone non è troppo azzardato laddove burger king e super bar un locale ad alta concentrazione di zuppe di verdura frullati di frutta e piatti vegani e vegetariani convivono amabilmente per la gioia di chi vuole concedersi un break sano e salutare oppure più saporito e calorico che sia e così proprio con lo spirito di accontentare tutti i gusti e i palati sono stati inaugurati a san lazaro di savena lungo la via emilia il burger king e il super bar che già in questi primissimi giorni di apertura stanno richiamando molti clienti un po stupiti e incuriositi dall'insolito abbinamento il super bar è un nuovo concetto che abbiamo creato in modo tale da rendere da un lato compatibile con il mondo burger king visto che stiamo convivendo insieme alla struttura di burger king e dall'altro per creare una realtà dove si possa mangiare cibo sano e genuino cosa vuol dire vuol dire che non siamo vegani non siamo vegetariani non siamo biologici ma quasi tutti i nostri prodotti sono biologici e tendenzialmente si chiama suppa perché perché era nato con il concetto di soppa che vuol dire zuppa in bolognese poi abbiamo pensato che forse era un po molto limitato al territorio bolognese e questa u da un po di internazionalismo della della sup perché l'idea è quella di dare ogni giorno una vellutata diversa quindi una zuppa diversa a cui abbinare altri cibi sani e genuini tipo couscous tipo orzo tipo macedoni da mangiare con con lo yogurt qui i bambini possono trovare i giochi fisici dove arrampicarsi abbiamo la zona atletica diciamo e poi invece i giochi virtuali dove c'è un'aria con una proiezione interattiva che cambia ogni e due minuti dove i bimbi possono calciare palloni che in realtà sono virtuali correre dietro uccelli scoprire nidi e fare altre cose quindi abbiamo una zona per bimbi più piccoli diciamo fino ai cinque sei anni e per bimbi proprio più grandini fino agli otto anni quindi abbiamo deciso di portare anche a San Lazzaro questo format che mancava e vediamo è molto apprezzato con attenzione appunto agli spazi per i bambini per le famiglie non vuole essere una sosta veloce come normalmente il fast food prende scappo via ma anche un posto dove fermarsi un'ora un'ora e mezza poter anche volendo fare colazione e sentirsi bene qui ci sono molti nuovi assunti molti di San Lazzaro ci sono più di 30 persone che non avevano lavoro e che adesso ce l'hanno grazie all'apertura di queste attività quindi davvero questo diventa un po un nuovo punto pulsante un nuovo presidio e voglio ricordare che questa è una operazione molto importante di riqualificazione territoriale e di rigenerazione e anche vorrei sottolineare il fatto appunto che queste nuove attività portano molto lavoro e in un momento storico come questo penso che un'amministrazione comunale non possa che insomma essere contenta e accogliere con entusiasmo delle iniziative come queste